Con l'eccezione però della Sardegna che rappresenta un'isola non felice da questo punto di vista, raggiunge quasi le percentuali della Finlandia. Però come potete vedere anche il tipo 2, come già stato anticipato dal professor Vescovi, la tendenza è epidemica del diabete, addirittura da questa slide potete vedere come nel 2030 sono previsti qualcosa come 300 milioni di diabetici in tutto il mondo. Se mi manda avanti, ecco, qui era solo per differenziare quello che è la terapia del diabete di tipo 1 giovanile che si avvale come dicevo prima solo ed esclusivamente di una terapia insulinica di tipo multiniettivo. Vedete quello in alto a sinistra è un riflettometro, cioè un misuratore al dito della glicemia e sotto vedete un attrezzo che si chiama penna, è una penna con dentro una cartuccia di insulina che attraverso un ago permette al bambino o ai genitori del bambino, se il bambino è molto piccolo, di autosomministrarsi l'insulina. Per noi molto importante nella terapia del diabete tipo 1 è l'aspetto educativo della gestione della patologia, lì abbiamo quello che si chiama il diario, cioè il bambino tutti i giorni si fa il suo diario naturalmente apponendo tutti i valori della glicemia. Ci sono delle alternative adesso nella terapia del diabete che come vedete si avvalgono di una tecnologia avanzata, per esempio questi microinfusori che sono degli apparecchietti, niente più delle dimensioni di un piccolo cellulare e che attraverso un cateterino sottocutte permettono la somministrazione in continuo della insulina che può servire al bambino. Ecco, lei ha seguito anche un campus estivo proprio l'estate scorsa penso. Che scopo aveva questa iniziativa? Che cosa avete fatto? Ma guardi, ormai che abbiamo iniziato questa attività sono dieci anni, sono dieci anni e forse di più. Insomma ritenevo che fosse importante per i bambini proprio nell'ottica di farli vivere serenamente nella loro vita di tutti i giorni e in questo modo, per questo ho deciso di organizzare questi campi. Questi campi facciamo una vita quasi di vacanza, quasi di vacanza in particolare per loro ma possiamo in questi campi insegnare loro come gestire la malattia. Ecco, quindi mi piace sempre pensare a un bambino che ha il diabete come un bambino che debba scalare la montagna della vita come fanno tutti quelli coetani che sono sani ma il bambino col diabete si mette un piccolo fardello quindi con questo piccolo fardello riesce comunque a raggiungere la cima perché ci sono tantissime evidenze che i bambini che si portano dietro questa malattia fin dalla tenera età perché c'è sicuramente un'anticipazione di questa patologia possano fare qualsiasi cosa, cioè tutte le cose che fanno tutte le altre persone nel senso che possono scalare gli 8.000 metri, possono diventare miss e miss mondo possono avere tutti i figli che vogliono e quindi possono condurre una vita assolutamente normale. Posso, per confermare anche quello che giustamente diceva il dottor Bottempi adesso la settimana scorsa sono stato in Canada a visitare un ospedale gemellato col Carlo Poma un'esperienza estremamente interessante con un gruppo di miei infermieri professionali e la diabetologia canadese spinge moltissimo su questo aspetto educativo tra l'altro anche con gruppi costanti di autoaiuto settimanali quindi con una persona che non solo informa ma anche educa in maniera profonda e questi aspetti sono assolutamente importanti nel complesso della terapia quindi anche nel mondo cosiddetto anglosassone che scientificamente è sempre molto avanzato si dà molta importanza per questo atteggiamento educativo e informativo. Ecco noi abbiamo raccolto una testimonianza di Cecilia una ragazza che ha il diabete da quando ha due anni guardiamo insieme la sua intervista e poi la commentiamo. Tu hai il diabete da quando avevi due anni come hai imparato a convivere con questa patologia? Beh intanto i miei genitori hanno sempre cercato di spingermi verso l'autonomia cioè farmi l'insulina da sola, la glicemia da piccola e poi anche successivamente ho messo il microinfusore che ho tuttora passando all'insulina alla gestione del microinfusore e accettandolo sempre di più comunque. E poi ho anche la compagnia che è molto importante perché in associazione non siamo solo ragazzi che ci conosciamo usciamo anche per esempio venerdì scorso siamo usciti a fare una cena quindi ci vediamo, usciamo alcuni sono in università con me uno dei quali è il mio moroso, diabetico anche lui e quindi non è stato un processo veloce l'accettazione diciamo che è stato un processo graduale a cui mi sono abituata lentamente perché da piccola sembrava una cosa normale poi dopo crescendo ci si rende conto che un po' non si è diversi però c'è sempre qualcosa che bisogna fare in più degli altri però si ritrova la normalità all'interno di questa malattia Quindi tu riesci a fare tutto c'è qualcosa che ti manca o di cui ti devi privare? No, privare no dopo c'è ovviamente da piccola di più perché la medicina si è sviluppata quindi le insuline sono diverse con il microinfusore c'è più autonomia ma bisogna avere più controllo di se stessi e più sicurezza no, sicurezza no però insomma più autocontrollo potrebbe migliorare però a questo punto anche se non ce l'avessi più non farebbe tutta questa differenza è un adattamento che c'è stato durante gli anni ecco come vivi comunque questa situazione? cioè tu mi dicevi effettivamente non mi sento diversa però comunque c'è qualcosa di più che io devo fare rispetto agli altri miei coetanei come la vivi? ma io bene perché non è mai stato proprio un peso a volte magari ecco da un po' fastidio che devo tirar fuori e mi chiedono ecco se ecco la cosa lì e me la fai vedere me la fai provare no, no, fa lo stesso però no, ho sempre avuto appunto la mia autonomia sono sempre andata fuori a dormire con le amiche sono sempre uscita colmuroso vabbè ovvio perché anche lui è diabetico anzi di sì c'è meglio di me però no, non mi ha mai limitato e mi sono sempre sentita bene da piccola un po' di più perché doveva farmi la mamma la glicemia, l'asilo magari non potevo rimanere fuori a mangiare perché sennò doveva venire la mamma e no, limitata no mi ha dato qualche problema crisi epoglicemiche in momenti meno opportuni tipo esami però limitazioni no ecco quindi la tua vita è assolutamente normale sì direi di sì anzi mi ha dato molte opportunità come trovare altre amicizie trovare humoroso trovare insomma venire a contatto con l'ambiente ospedaliero che poi si è visto è diventata la mia strada perché no, quindi direi che è anzi quasi un bene diciamo quindi tu stai studiando medicina? no, infermieristica infermiera ecco Patrizia Bosari lei è presente dell'associazione Giovani Diabetici abbiamo sentito nelle parole di Cecilia proprio anche l'importanza che hanno le associazioni in questo percorso certo mi è fatto molto piacere sentire Cecilia dire che sta vivendo una vita normale ed è questo che la nostra associazione sta puntando cioè supportare e aiutare le famiglie e i nostri giovani a vivere serenamente la loro vita ecco ecco perché comunque collaboriamo molto con i medici sia della diabetologia dell'adulto e della pediatria ma perché i nostri bambini crescono appunto e passano hanno questo passaggio dalla pediatria all'adulto Cecilia ha fatto un riferimento che ha trovato nuovi amici esatto ecco non soltanto un gruppo però proprio ha trovato nuovi amici infatti si è creato una sorta di amicizia fra di loro e ogni tanto si incontrano infatti anche venerdì si sono incontrati perché si ha intenzione di organizzare qualcosa di educativo naturalmente tipo un campo un weekend più che un campo un weekend educativo per i ragazzi un po' più grandi questo weekend si vedrà di farlo anche per i bambini piccoli anche se quest'anno i bambini piccoli hanno usufruito appunto come diceva il campo educativo sì perché quello diciamo nelle nostre attività i campi educativi ci sono sempre è una delle attività principali e importanti per la nostra associazione un'altra attività molto importante che ha la nostra associazione è quella appunto della campagna di prevenzione e di informazione che ormai sono 3-4 anni che facciamo con il supporto dei medici della diabetologia e della pediatria anche e anche delle infermiere perché bisogna ricordare che ci sono anche loro che ci danno una buona mano ecco io la interrompo un attimo perché adesso ci separiamo per un pochino di pubblicità ma torniamo tra pochissimo